C'è un tempo per tutto, dice Versaggio, anche per tornare a casa dopo settimane al mare o in giro per il mondo, ma è proprio il ritorno a casa, nelle città, che dovrebbe far voltare pagina ai vacanzieri, i quali dovrebbero intanto riporre negli armadi, canottiere colorate, infradito, bandane, gli accessori tamarri in genere, perché ci sono espressioni cafone nel vestire, che possono essere accettate o subite nei mesi estivi, ma non sono ammissibili in versione urbana. Comunque ufficiale, l'estate è per molti già un ricordo, mentre comincia la routine quotidiana e col campionato di calcio, oltre agli stadi, si riempiono anche gli uffici e quindi al bando l'abbigliamento vacanziero. Altro appunto, la bronzatura dona, certo, ma se per mostrarla si deve spalancare la camicia fino all'ombelico, allora è meglio visi pallidi. Tra l'altro ci sono adesso i bambini che a settembre torneranno a scuola, e allora perché provocare loro traumi estetici? Ma il tramonto dell'estate ci regala anche una chicca, che se vogliamo il paradigma, di quella che ormai è diventata la società di oggi, giovani soprattutto che non sanno neanche divertirsi giocando. Stiamo parlando della rissa scoppiata la scorsa settimana a Vittoria su un campo di calcetto, neanche fosse alla finale del mondo, e uno di quei segnali di sottocultura a cui purtroppo la città deve fare i conti, triste zavorra degli anni 80 e 90, che hanno oggi generato tante zucche vuote.